Venite con me, mostro mio atelier creativo Questo è un anno molto speciale per Shabby Chic Life e Decora Facile perché questo è il decimo anno Ebbene sì amici, dieci anni fa nasceva la vernice Decora Facile quando in Italia ancora si carteggiava e poi si stendeva la vernice è arrivata Decora Facile che ha rivoluzionato il metodo del restyling anzi ha insegnato il restyling in Italia perché non ancora si conosceva questa metodologia e questa capacità, questa possibilità di applicare la vernice senza prima carteggiare basta pulire il mobile e vai con il colore siamo partiti con pochissimi colori guardate che cartella bellissima di colori che abbiamo nove tonalità di bianco, i rosa, i verdi, gli azzurri, i grigi, i colori naturali insomma vi potete sbizzarrire con Decora Facile Questo è l'angolo dei prodotti quindi qui troverete i prodotti per la decorazione gli accessori per decorare ovviamente Decora Facile qui abbiamo portato per il momento solo alcuni formati ma ovviamente ne arriveranno altri stiamo continuando ad organizzarci qui abbiamo l'angolo creativo con la cartella colori possiamo fare dimostrazioni vedete il banco è da lavoro quindi possiamo anche vedere dal vivo in diretta con voi come si utilizza il colore come viene applicato insomma tutto quello che volete sapere tutte le vostre curiosità e qui abbiamo lo spazio espositivo alcuni mobili sono rivolti verso la vetrina quindi li vedete dall'esterno e altri sono qui all'interno quindi è tutto il mondo creativo dai lampadari che sono anche questi dipinti con Decora Facile trasformati con Decora Facile i tavoli, gli armadi quello che volete e quindi man mano evolveranno si trasformeranno ce ne saranno di nuovi è sempre un mondo in movimento venite con me vi mostro un'altra chicca di Shabby Chic Life l'atelier dei pomello qui abbiamo un'infinità di possibilità di creatività che per realizzare i pomelli l'atelier del pomello realizza i pomelli per voi e questi sono solo alcuni esempi i decori sono questi abbiamo i decori con il timbri i decori a rilievo i decori con i transfer considerate che il colore del pomello può essere scelto da voi chiaramente sulla tabella colori li decora facili perché vengono realizzati da noi quindi quando trasformate un mobile ovviamente anche il pomello deve avere il suo perché deve essere quell'elemento quella chicca che va a mettere un po' come la ciliegina sulla torta a chiudere la nostra trasformazione e noi vi aiutiamo in questo non dimenticate che stanno per ripartire i corsi di Shabby Chic Life in questi anni ne abbiamo fatti tantissimi abbiamo girato tutta Italia e abbiamo conosciuto bellissime persone dappertutto e quindi vi aspettiamo nei prossimi corsi di Shabby Chic Life